Hicham Bufars dell'ASD International Security con il tempo di 32 minuti e 12 secondi ha vinto la non edizione della Stracittadina Città dell'Aquila che si è svolta ieri nel capologo di regione nell'ambito del ricco calendario d'eventi di L'Aquila Città Europea dello Sport 2022. Sul podio anche Rudy Albano ed Alessandro Ferrarotti del gruppo sportivo Polizia Municipale di Torino mentre l'aquilana Chiara Benedetti è arrivata prima tra le donne del Park's Trail Promotion eseguita da Martina Ottogalli dell'Atletica Dolce Nord-Est e Lia De Simone Petruzzi Runners. Un appuntamento che torna a grande richiesta quello della Stracittadina che quest'anno ha visto l'iscrizione ai circa 340 atleti complessivamente oltre ai bambini che si sono sfidati sul piazzale di Colle Maggio. Alle 10.30 c'è stato il via ufficiale dopo un breve incoraggiamento da parte dell'assessore regionale dello Sport Guido Liris. Partenza e arriva Colle Maggio, primi passi verso la villa. All'imbocco di via 20 Settembre il circuito da ripetere due volte discesa fino a via Fontesecco e poi tratto in salita attraverso via Sallustio, via Camponesche, via Baffile, fine Quattro Cantoni. Si è presciuto dunque il percorso Vittorio Emanuele, da lì in senso orario si è corso lungo il perimetro del fossato per uscire in via Zara a ridosso di Porta Leoni all'inizio di un minicircuito che ha attraversato la zona di Santa Maria di Farfa per sbucare davanti alla chiesa di San Bernardino da Siena. Una volta tornati ai quattro cantoni i corridori hanno percorso il corso verso Piazza Duomo prima di rientrare alla villa comunale e quindi a Colle Maggio dove gli atleti meritatamente hanno tagliato il traguardo.